Musica 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 Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video questo è un VLOG come avete visto dal titolo e lui è Lordcraft e lui è Mr.Luca99 e siamo qui per annunciarvi delle liete novelle ecco esatto ci evolviamo Musica 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 ci evolviamo molto probabilmente 99,9% passiamo a console non del tutto rimaniamo anche su PC tutorial però diciamo che una buona parte la dedichiamo anche alla console esatto faremo dei diversi gameplay su diversissimi giochi come per esempio Call of Duty che è il top cioè nel senso esatto ce l'hanno tutti un gioco che hanno tutti Call of Duty probabilmente tralaceremo FIFA roba del genere perché io non sono molto appassionato magari lui ma non penso no no faremo first look cos'è un first look? un first look è quando tu compri un gioco e inizi a registrare già proprio la prima volta che lo apri esatto prima vista in poche parole esatto mi chiediamo un euro mi chiediamo niente scherzo mi chiediamo niente mi chiediamo solo di iscrivervi mettere mi piace e condividere questo video se no mi prendiamo a sprangate sul copino ok a sprangate sul copino mi piace esatto probabilmente tralaceremo un po' i tutorial su come scaricare e crackare io faccio i tutorial su come risolvere problemi scaricare si esatto però saranno molto minori e comunque a vostra richiesta nel senso chiedete noi facciamo oh mio dio a me si è distrutto il computer è arrivato un talebano e mi ha preso a sprangate il monitor vengo da voi e mi prendo a sprangate il talebano mi raccomando scrivete nei commenti se per voi va bene questa decisione oppure preferite che rimaniamo sul computer perchè vi spiego una cosa per il computer bisogna essere sempre aggiornati nel senso che e c'è un gioco tu lo compri e ci fai gameplay e c'è un altro gioco lo compri e ci fai gameplay no non c'entra quello si devi stare alla moda devi essere al passo col tempi si ma più che quello serve anche tipo ogni anno comprarsi un computer più o meno ogni anno comprarsi un computer nuovo e delle componenti nuove in modo da supportare ogni tipo di videogioco esatto volevo dirlo più semplicemente ma comunque è quello io direi che per il vlog è tutto esatto non abbiamo nient'altro da dire la cosa più importante l'abbiamo detto appunto cosa ne pensate voi di passare a console passare aggiungere al canale le console e tralasciare un pochettino il tutorial esatto ok quindi e lasciate un commento appunto con sì no va bene non va bene cosa ne pensate voi mi raccomando non ci venite a dar fuoco alla macchina come avete fatto con con francesco sole poverino 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 poverina la macchina poverino no francesco sole E lo salutiamo Ciao Francesco Barcollo ma non mollo Lasciate un mi piace al video Alla pagina facebook Se vi piacciono i miei capelli No Iscrivetevi Seguiteci su instagram E mettete mi piace a facebook Se avete voglia di parlare con noi C'è il link Il nome di skype Dovinate un po' Craftgaming Sarò attivo ogni sera Quindi se volete Chattare Diciamo parlare la sera Perché è il pomeriggio Buon tutto Buona vita Ci vedremo Al prossimo Bella Che video del cazzo Ciao a tutti Ciao a tutti